Covid in Italia. 835 casi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala allo 0,4%. I decessi sono 31. Oltre 120 pazienti in meno tra ricoveri e terapie intensive. Dopo il parere del CTS, il ministro Speranza conferma che il 28 giugno sarà abolito l'obbligo di mascherine all'aperto. Le discoteche forse reaperte entro i primi 10 giorni di luglio. L'ipotesi caldeggiata da Draghi di spostare la finale di Euro 2020 da Londra a Roma è respinta dal governo inglese.